Le sorprese sono dietro l'angolo, guardiamo se si possono evitare. Mi aspetto una cornice di pubblico degna di un derby. Ci aspetta una gara difficile e spigolosa senz'altro. Loro sono una squadra prettamente da categoria, che fa dell'agonismo e di qualche individualità il punto di forza. Ci sarà da lottare, ci sarà da sudare, ci sarà da stare tutti uniti e cercare di fare il proprio dovere per ottenere il massimo dei risultati. Stiamo attraversando un buon momento, ma allo stesso tempo bisogna stare in campana perché, come spesso c'è successo nel passato, le sorprese sono dietro l'angolo. Guardiamo se si possono evitare, con l'impegno e con la volontà. Mi aspetto una cornice di pubblico degna di un derby, di una partita molto importante come questa, che ci può fare un salto in avanti notevole e che ci potrebbe permettere di vedere le cose in altro modo. Aspetto il sostegno del pubblico come sempre c'è stato e come mai è mancava. A loro dobbiamo solamente dire grazie, a loro dobbiamo dedicare tutto quello di buono che riusciamo a fare. Adesso abbiamo bisogno dell'apporto del pubblico perché i ragazzi possano ritornare ad essere padroni in casa propria, come è giusto questo.